Il Macro, il Museo di Arte Contemporanea di Roma, dedica una mostra ai due più significativi protagonisti della storia dell'arte del Novecento, Mario e Marisa Merz. Durante la loro carriera, partita dall'esperienza dell'arte povera, non hanno mai separato la vita quotidiana dalla creazione artistica, pur nella distinzione netta del proprio lavoro individuale. La mostra indaga il legame che i due artisti torinesi hanno stretto con Roma, come nel caso della grande spirale di Neon Blu che Mario Merz aveva progettato per i fori imperiali. Questa è la prima volta che al di fuori della Fondazione Merz si dedica una mostra a Marisa e Mario Merz. Una coppia di artisti che per oltre 50 anni, fino al 2003 quando Mario Merz è scomparso, ha non soltanto vissuto insieme e condiviso una straordinaria relazione intellettuale, ma anche ha lavorato insieme in alcune occasioni. Qui al Macro esponiamo tre delle quattro opere che hanno realizzato a quattro mani. Si tratta di tavoli in ferro e vetro di Mario Merz che accolgono le sculture in terracotta di Marisa Merz.